E ben a tutti e ben intuati in questa nuova serie, oggi vi porto Wolfenstein The Old Blood Il mio inglese fa un po' schifo, spero di averlo detto bene Non mi uccidete dicendo che ho sbagliato la pronuncia eccetera Non lo so l'inglese, quindi spero di averlo detto giusto Questo gioco è un'estensione dell'art of Wolfenstein uscito l'anno scorso Che ho portato sempre nella serie, lascerò il link in descrizione con tutta la playlist Che a me è piaciuto veramente tanto, se volete capire poi principalmente com'è il gioco Basta che andate a vedere la vecchia serie oppure direttamente guardate questa Tanto non credo che ci sia qualche spoiler di quell'altra, quindi non penso Sono entrato soltanto per modificare un po' la grafica, i tasti Perché io gioco con le freccette, lo sova un po' all'antica però io gioco ancora a quello Ancora quello, in quel modo Giocherò Con difficoltà Fatevi sotto Quindi diciamo che è sul normale Non gioco mai troppo Alto ecco Io vi lascio ragazzi Spero che questa serie vi potrà piacere Vi auguro una buona visione e un buon divertimento Trasmesso attraverso il sangue versato dai guerrieri Sento il vento della tempesta in arrivo Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee Voller Zuversicht Dass der Insieg in nur wenigen Jahren Zu erreichen sei Sprache dem großen Fortschritt Der deutschen Waffentechnologie Unde ne Führung von General Wilhelm Strasse Einen großen Anteil Spero non ti dispiaccia avere il peso del mondo sulle spalle Ho spalle piuttosto solide, agente 1 Bene Stiamo perdendo la dannata guerra Non lo sapevo Il Cugilo tiene segreto Il generale Deadset sta creando macchine da guerre inarrestabili in un complesso segreto Uno dei suoi luogotenenti, Helga von Schaabs, custodisce il dossier citato nel briefing della tua missione nella sua base operativa Il castello Wolfenstein Nel dossier c'è la posizione del complesso di Deadset Potrebbe essere l'ultima chance Prima che i nazisti annientino a questo punto America non cederebbe mai Ecco il posto di blocco La tua copertura Comandante Franz, nazista dell'SS di Francoforte I papiere, bitte Hier Faren Sie zum Kontrollpunkt da vorne Und zeigen Sie dort Ihre papiere Vielen Dank Wiedersehen Siamo una buona squadra Blazkowicz Possiamo farcela Ok, senti Il tuo tedesco Francamente è pessimo Quindi niente chiacchiere E cerca di tenere la pistola nella fondina I documenti di Kessler sono nel porto oggetti Là Ok Andiamo E ricorda Concentrati Hundefutter aus dir Aus Frankfurt Sind Sie Frankfurter? Ja Heine Hot Dog Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind Heine 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 Greta Beifuss Oh Doc Non sapevo cosa dire Quello era Rudy Yeager Vicecomandante di Helga Dicono che nutre i suoi cani con i prigionieri del castello Guten Morgen Morgen Helga von Schapps Proprio una carogna Scelta Da Dezat stesso Come membro chiave della divisione paranormale delle SS Ho avuto la sfortuna di incontrarla in una missione in Tanganyika Te l'ho mai raccontato? Mi ero beccato la febbre emoglobinurica Il peggior giorno della mia vita Non riuscivo a stare meglio Meno con il whisky Immagina Comunque Questo castello appartiene a Helga È il suo centro di ricerca segreto Dobbiamo eliminare Dezat o perderemo la guerra Helga ha un ruolo chiave in questo Il dossier segreto si trova nel suo ufficio Dovrebbe rivelarci la posizione del complesso di Dezat Una volta ottenuta Allora Lancieremo un assalto nella sua base operativa Lo uccideremo Ribalteremo le sorti di questa guerra E torneremo giusto in tempo per il tempo Ci siamo Scendi Disattiverò l'allarme Vai al centro di ricerca di Helga Resteremo in contatto radio Lascio il canale aperto Scenderemo in contatto radio Ok, sono nell'ascensore. Ricevuto. Vedo una guardia. Sei eliminato. Sei provatman? Ecco fatto. Sognitolo. 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 Sulla passerella, BJ. Non sparare. Sono io. Darò un'occhiata lassù. Cerca una cassaforte. Il dossier dovrebbe essere lì. Ok, Elka. Dove nascondi i tuoi secreti? Ora, se fossi una cassaforte, dove mi nasconderei? Beh, non mi nasconderei perché non sarei senza ente. Immagino che mi restarei lì. Ma lì? Dove? Laskovic, fruga in ogni angolo. Non ce ne andremo da qui senza quel dossier. Cazzo. Ho trovato la cassaforte, ma il dannato dossier non c'è. Non è qui. Ho visto una radio là. Usala per contattare Kessler. Digli che non troviamo il dossier. Fai in fretta, Blaskovic. Io resterò di guardia. Raggiungi la radio e contatta Kessler. Blaskovic. Non c'è tempo da perdere. Padfinder chiama Lancer. Rispondi, Lancer. Passo. Qui è Lancer. Passo. Lancer, non riusciamo a trovare il regalo per Lucy. Passo. Padfinder, ho nuove informazioni sul regalo per Lucy. Raggiungimi il prima possibile. Ne discuteremo di persona. Passo. Ricevuto, Padfinder. Merda! Porca fustana! Tieni rimpegnati, Blaskovic! Io cerco una via di fuga! Ricorda, non restarà nulla di buono al mondo! Spara quei nassisti, Blaskovic! Ti sto lavorando! Spara quei nassisti, Blaskovic! Colosi! Colosi! Connolla! Come vanno per uscita? Questi! Che gran casino, eh, BJ? Abbiamo ancora una possibilità. Kessler sa qualcosa. Beh, non farà un fico secco se non usciamo da qui. Ascolta, ho trovato una via. Vieni qui, ti tiro su. Attenso. Attenso. Dobbiamo incontrare Kessler alla caverna. Ricevuto. Ci siamo! Sali su! In fretta! Ecco. Questa uscita! Non si torna indietro, BJ! Non fermarti! Merda. Che fanno la mercatola? Ehm... Ehm... Che fanno la scuola? Ihm... ... Marta. Dannazione, Blazkowicz, ora sì che sei nei guai. Blazkowicz. Ehi, Blazkowicz. C'è qualcosa lì? Sei sveglio? Dannazione. Topi. BJ, rispondimi. Sono qui, Wesley. Bene, bene. Ci tirerò fuori da qui. Sei mi stato in Snowdonia, Blazkowicz. No, mai. È un luogo desolato, maestoso e splendido. Colline a perdita d'occhio. Prima della grande guerra mio padre mi portava lì a fare delle passeggiate. Ero così felice. Preparava un cestino con pane e formaggio. Una bottiglia di birra per lui e una bibita per me. Una volta abbiamo persino trovato un fossile. Lo stesso giorno mi sono rotto un piede scivolando su una pietra umida. Il giorno più bello della mia vita. Mi sarebbe piaciuto tanto quella. Sera ufficiale. 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 Sera. Allora. Sera ufficiale. I super soldati sono collegati a quei cavi, vogliono la corrente e potrebbe disattivarli. Ho già visto tipi come te nei laboratori di Dead Set. A presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.